bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti insieme è stato fatto l'evento ieri sera alle ore 10 ha avuto un sacco di controversie ragazzi alcuni lo hanno apprezzato ad altri è piaciuto un pochettino meno io personalmente non l'ho trovato affatto brutto curioso forse leggermente sottotono sul finale ma non male nel video di oggi però parleremo di un sacco di informazioni dedicate alla stagione 5 di fortnite e vi ricordo che alle 8 sarò in live su twitch come sempre e vedremo insieme tutti i leaks di questa patch 15.00 appunto che ci porterà nella nuova season del capitolo 2 di fortnite ci sono tantissime cose anche che sono state aggiunte proprio nei file di gioco dopo l'evento ho tradotto per voi le trasmissioni che sono state pubblicate nella pagina twitter insomma c'è un sacco di cose da sapere prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non potrebbe altro che essere l'immagine ufficiale della stagione numero 5 o meglio della premiere della stagione numero 5 quindi 12 2 2020 con tutto lo sfondo che fa appunto a riprendere la galassia sappiamo che questa season durante l'evento potrebbe essere collegata abbiamo due opzioni o la season è collegata al vecchio capitolo di fortnite ma c'è anche qualcuno che ha detto che probabilmente si potrebbe tornare alla storyline della season 3 tagliando direttamente tutta questa season 4 che effettivamente a parte un paio di cose non ha avuto non ha avuto un continuo ecco con la storyline principale di fortnite per chi non l'avesse visto ragazzi l'evento è stato comunque mastodontico per quanto riguarda gli effetti e quant'altro il galactus è emerso dalle acque ha preso la sua forma e ha dato un colpo alla all'elicarrier che praticamente sarebbe la nave che era sopra la mappa quella dove sponiamo in poche parole prima di entrare nell'autobus della battaglia la nave è caduta ma stiamo stati salvati direttamente da iron man che ci ha dato il backpack dopodiché abbiamo dovuto affrontare una seconda parte dell'evento interattiva quindi davvero molto bella nella quale appunto dovevamo sparare dal dall'autobus della battaglia a dei a degli ingordi no quindi quei quei robot che venivano rilasciati dal mega galactus ogni autobus è stato riempito con delle bombe come vedete che avevano il compito di danneggiare e distruggere il galactus prima di riuscire a raggiungere appunto la bocca del galactus perché sono entrate tutte da lì abbiamo dovuto affrontare un percorso anche questo interattivo con l'autobus guidandolo per le braccia di questo gigante divoratore di mondi con sotto una bellissima colonna sonora degli acdc e abbiamo finalmente raggiunto la parte che ci interessava il galactus è cascato nel nostro tranello ha aspirato tutti gli autobus della battaglia ed è esploso quindi una volta che il galactus è esploso si è vista tutta la galassia tra l'altro alcuni e io stesso abbiamo notato anche l'astroworld tra i vari pianeti un chiaro riferimento ovviamente a travis bam schermata nera si riparte poi da questa schermata johnsy si sveglia nuovamente tutto confuso ma in realtà non parla fa semplicemente un'espressione di stupore e arriva il video che dice beh si continua nella stagione 5 questo che cosa vuol dire ragazzi che probabilmente tutto un sogno di johnsy e quindi appunto si si ricollega a quanto abbiamo visto nella fine della stagione 3 non lo so non è molto chiaro quello che succede lo zero point comunque è stato chiamato in causa sia dal galactus sia dal donald e si ragazzi perché anche il donald mustard ha fatto il suo ha modificato l'immagine di copertina e la sua location nell'immagine di copertina come vedete c'è una specie appunto di potrebbe sembrare una roba piena di scritte e la sua location adesso è the bridge quindi il ponte questo vorrebbe magari dire che il ponte di comunicazione che c'è tra i due mondi avete presente il bifrost se non ricordo male si chiama per quanto riguarda l'universo marvel ritorna e potrebbe essere una chiave di lettura per eventualmente tornare a una season precedente o a qualcosa di particolare non lo sappiamo ovviamente ma il donato quando pubblica le cose è sempre meglio stare attenti curioso anche il fatto che sia stato pubblicato subito un teaser direttamente dalla pagina ufficiale di twitter di fortnite come vedete c'è questa enorme antenna che sta ricevendo delle trasmissioni insieme all'antenna pubblicano queste due righe zero point unstable project hunter beginning upload reply with code bounty to accept transmission alcuni hanno retweetato con il codice bounty hanno ricevuto un codice appunto due righe che io mi sono permesso di tradurre per voi in italiano perché non tutti le hanno ricevute alcuni ricevevano un messaggio con scritto connessione non stabilita non e niente finiva altri invece l'hanno ricevuto e questo è quello che è stato tradotto dall'inglese all'italiano registro della realtà 1982 onestamente all'inizio pensavo ci fosse non lo so una specie di errore perché il cacciatore di taglie che sto cercando dovrebbe essere uno psicopatico tranne per il fatto che lexa sembra dolce come un agnello per davvero se mi dicessero che il suo migliore amico era un gatto magico che parla non sarei nemmeno sorpreso ma come ho visto non dovresti essere fermato dal suo sguardo malizioso perché quando lexa è arrabbiata si aggrava rapidamente per davvero qua sarà tradotto un po male si trasforma persino in un puro incubo cosa vuol dire non ne ho assolutamente idea chi è lexa non ne ho assolutamente idea ma una cosa curiosa ragazzi è questa immagine che è stata riapploodata nei file di gioco subito dopo l'evento e che mostra un jonesy con una scimmia praticamente più di una in realtà in un ambiente che potrebbe essere quello di una giungla e magari forse lexa è la persona che le sta di fianco non lo so però nella trasmissione originale si sentiva sotto un forte rumore d'ambiente di una giungla quindi un'altra supposizione potrebbe essere questa l'ambientazione della nuova season ragazzi non lo sappiamo ma questo è il primo dei due video che voglio caricarvi oggi il prossimo arriverà a metà mattina e conterrà tutti gli aggiornamenti trovati nella patch 15 io vi invito a seguirmi in live dalle 8 su twitch per vivere assieme finalmente l'arrivo della stagione 5 su fortnite grazie a tutti per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su ragazzi fatelo schiacciatelo e lasciate un commentino aiutatemi a portare questo video nei consigliati noi ci vediamo in live su twitch alle 8 ciao